È incredibile e inammissibile che il Presidente del Consiglio possa aver dichiarato, come riportato da tre quotidiani nazionali, che i senatori che hanno votato ieri il mio ordine del giorno sono una cozzaglia, che hanno approvato un ordine che ha valore vero. Non si può fare uno sfregio così ai senatori, quindi mi auguro che il Presidente smentisca la cosa, ovvero venga a riferire in Parlamento, perché la cosa sarebbe gravissima.